Sai che il filo di ferro è ovunque, anche se non lo vedi? È nei piccoli oggetti di ogni giorno e nelle grandi innovazioni del futuro. Ma non tutto il filo è uguale. Ce n'è uno che contribuisce insieme a te a migliorare il mondo in cui viviamo. Lo sa bene Selly, che grazie a questa scelta ha reso più efficiente il suo impianto di riciclo a Vancouver. O Harry, che usa questo filo per ridurre l'impatto ambientale della sua zincheria a Monaco. Entrambi hanno un sogno. Essere protagonisti del futuro e imprenditori responsabili capaci di servire l'uomo e custodire il pianeta. Il team di Bottaro non ha mai smesso di sognare. Da questo sogno è nato un filo diverso da tutti gli altri. Capace di unire tecnologia, ricerca e una visione d'impresa onesta e responsabile. Investiamo nella produzione di energia pulita e selezioniamo solo materie prime certificate. Questo filo è il nostro patto di lealtà che unisce persone e imprese. Un'eccellenza italiana che grazie ai nostri clienti viaggia ogni giorno in tutto il mondo. Bottaro World Wiremaker